Sarà la casa del volontariato, a disposizione di tutte quelle realtà associative che si adoperano in Umbria per combattere il cancro. È stata inaugurata Perugia, nello spazio antistante azienda ospedaliera, lì dove tutti i giorni centinaia di persone si recano per le cure oncologiche. L'ha voluta l'associazione Rete Insieme Umbria Contro il Cancro, che nata un anno fa, raggruppa 14 realtà presenti sul territorio. Tra le altre, Avanti Tutta, nata dall'esperienza di vita e di malattia di Leonardo Cenci, l'AUC, la Giacomo Sintini, l'Eugubina AEC, il Punto Rosa 2.0 Donne, presenti all'inaugurazione, oltre ai rappresentanti delle associazioni, l'assessore ai servizi sociali del comune di Perugia, Edy Cicchi, e il professor Fausto Roila, oltre a rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali. La Casa del Volontariato sarà un punto informativo di aiuto a chi si trova nella difficile esperienza della malattia, punto di approdo di un progetto come quello della Rete di Associazioni, nato un anno fa, con il preciso scopo di poter essere ancora più di supporto ai pazienti e alle loro famiglie, per poter esercitare il ruolo di rappresentanza dei propri associati e di dar voce a queste parti fragili della società, soprattutto in un momento in cui anche il panorama del servizio sanitario pubblico sta profondamente cambiando con tutte le sue difficoltà.